Buongiorno a tutti, oggi preparo una torta soffice con un frutto di stagione, il melone. Mi occorre 500 g di polpa di melone, 200 g di zucchero, 5 uova, una bustina di lievito per dolci, 120 ml di olio, 100 ml di latte, un pizzico di sale, 500 g di farina. Inizio e sbatto le uova con lo zucchero. Montate le uova, frulli il melone. I restanti 200 g li ho fatti a pezzettini. Ora metto il latte, l'olio e il melone frullato. Prima di aggiungere la farina mescolo. Ora aggiungo la farina setacciandola. Ora mischio tutto. Metti il pizzico di sale. A questo punto aggiungo il lievito. Ora a mano mischio il melone fatti a pezzi. Ora verso in una teglia imburrata di 28 cm di diametro. A questo punto in forno caldo e statico a 180 per 40 minuti. una volta cotta e raffreddata la taglio. Ho spolverato sopra dello zucchero a bèno. Ed eccola pronta da gustare. Grazie della visione, alla prossima. Iscrivetevi al canale, condividete e mettete mi piace.